Sono i giorni in cui per tradizione si porta un fiore sulla tomba dei propri cari defunti nei quali si registra il clou delle visite ai cimiteri. Ed è per questo motivo che nel giorno della ricorrenza di ogni santi e della commemorazione dei morti che l'amministrazione comunale di Arezzo ha messo in campo 25 agenti della polizia municipale per disciplinare il traffico nella zona del cimitero monumentale per informare così la cittadinanza ed evitare i disagi proprio nei due giorni in cui si registra un gran numero di visite alle tombe dei propri cari. Ed è stato proprio in vista del maggior afflusso nei cimiteri Chiarezzo Multiservizi, la società che gestisce 54 cimiteri del territorio, ha intensificato il servizio di vigilanza con pattugliamenti fissi ed antitaccheggio al cimitero cittadino e con addetti in borghese e sopralluoghi anche nei cimiteri extraurbani. Intanto per mercoledì 2 novembre in programma come consuetudine la Santa Messa ufficiata dall'Arcivescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro Monsignor Riccardo Fontana al cimitero urbano.